Sono contento e speriamo che da oggi in poi vengano altri di tanti, no? Senti, ma a chi lo dedichi ora che l'hai segnato? C'è qualche persona alla quale dare questo regalo? Eh no, forse è la mia ragazza che tutti i giorni con me, quando io sto male, lei è quella che mi dà la fiducia, che io devo scrivere, Michele.